Avvicinare le persone, specie i giovani, alle tematiche ambientali e in particolare il riciclo dei rifiuti, in modo sostenibile e dinamico. È l'obiettivo della campagna Toscana Circolare, piattaforma creata per proporre una comunicazione ambientale omogenea, coerente e di qualità in tutta la regione. La loro azione, il loro lavoro in casa e la consapevolezza di quello che loro stanno facendo, credo in una cittadinanza attiva come è quella della nostra regione, possa determinare un risultato ottimale. Le lattine, al contrario di quanto si possa pensare, non vengono fatte con il latte, ma con l'alluminio. Non è una specie autoctona, infatti è per colpa dell'uomo se adesso ce le ritroviamo in mezzo alla natura. La nuova campagna utilizza video divertenti dedicati alle principali categorie di rifiuti raccolti e alla loro differenziazione, svelando curiosità del settore e stimolando l'attenzione alla seconda vita dei materiali raccolti. La diffusione avverrà principalmente sui social, ma anche sui tradizionali canali di comunicazione. E continueremo, anche perché la nostra idea è quella di cercare di comunicare con i maggiori linguaggi possibili. La comunicazione, ha spiegato l'assessore Monni, riveste un ruolo fondamentale nel settore ambientale. Sappiamo bene che nessuna transizione è possibile se non ingaggiamo i cittadini, rendendoli partecipi di questa grande trasformazione che dobbiamo affrontare. Sì, mi dispiagge il dato, ma non sapevo dove tenerela. Le lattine di alluminio non si devono abbandonare, perché si possono riciclare.